buon buon ciao a you benvenuto a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo nuovissimo costosissimo sboosting stiamo parlando di commander master un'edizione che va a potenziare il commander ea riprende un sacco di carte introvabili o difficile a trovare e a diminuire anche il costo delle esse ma dall'altra parte escono un sacco di varianti alternative che fanno pimpare il deck e diciamo il money drop lo troviamo grazie a quelle carte tante carte interessanti le andiamo a vedere insieme io ho spoilerato poche niente perciò tra molto 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 surprise per me in compagnia di francesco già conosci tu ok perciò iniziamo a vedere che non ci sarà la bustina figa c'è solo un qualcosa che parla dei quattro archetipi incantesimi tramutanti eldrazi e place worker party tanta roba poi box sono di 24 bustine ok come si sono i commander del master che forse troveremo in nei prossimi video questa bustina draft quindi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 comuni come sempre 12 13 14 4 si a si ci sono due rara praticamente la bustina si più o meno no no nel comuni si trova allora abbiamo trovato questa era rara una volta pure lei era rara una volta perciò abbiamo trovato già due rare che sono diventate non comuni quelle due rara e poi abbiamo trovato la confluenza mistica fortissima scegli tre tu puoi scegliere o più di queste in questo modo neutralizza pesca e rimbalza e poi un yuriko con comando e ninjitsu figo fai ninjitsu al comando e poi come fai un costrutto vai fra ok tante comuni interessanti ci giocavo comunque un alberto eh sì effettamente comando si ah è common l'hanno fatto diventare chi è il tritone common figo ok royans si un bel mille e poi mitzix o un chine di questa giocazione di meno per ogni avversario distruggi due creature ah figo e poi la foreign e che cosa è rara? la former's blade si che palla no rara non comune ah ok questa l'hanno ristampato vista anche in come si chiama marcia si comune ah mizzica che comune che hanno fatto in power una bomba il ritorno mizzica eh sì perché ora si possono mettere in power eh sì eh un bel po' di retrocessioni un paio di retrocessioni troviamo oh balan wandering è un angio bledmaster sei mana tre sei volare doppio attacco quando entri in gioco tu puoi attaccare un numero di aure equipaggiamenti sotto il tuo controllo ad essa altre creature che controlli per lo più o più uno per ogni ea una equipaggiamento attaccato a lei forte e poi l'altra foil se lo mescolo eh no non sono tutti no te no si la spada ah si ah tu dici garantita una foil si è garantita eh hai detto c'è tutto ecco perchè così così tanto l'intero a bustino oh un'alternativa bello 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 il piede lesso il psico però non comune ok un dragone del cavo ienet ienet famosissimo vedi che fa ienet mentre fai il magus 5-3-5 cautela minacciare volare quando attacca arrivi la prima carta del grimorio tu puoi lanciare la carta senza pagare insomma se il mana è odd dispari se non lo fai mischiare la carta odd mi sa che è disparo ok ok ah yes ehm la sacrifichi si fai la ruota della fortuna si è una carta di magic infatti lui si chiama il magus della ruota guida si le comune si ah c'è il velo di serpente l'attore comando Ancomone un'ira un'ira di dio Ancomone un removable bello primoborne Ancomone ah ma questa è una rara ci possiamo soffermare io si riconosco le figure forte dal gioco che poi quella è la best interiore bianca parte l'esilio si questa è un'altra rara l'esilio fortissimo ma pure questo è il file si la rara scusami si è rara rara si l'avevi detto ma questo qual è? e poi c'è il tasco d'arca 8 valla per ogni creatura del tuo versario crea un 4x4 direzione oh vabbè vedo un po' di alternativa eh no è il fatto di qua è il po' mistico va questo a dicendo? quello si quello foil un arcane signet bello così si può giocare anche in quello eh no è quella è la parte bella di qua Taitoya oh Jakama bella l'idolo è un costo rider fortissimo questo è una fatta comune più 2 più 2 travolgere fortissimo ah beh adesso è comune va forte bello quel goblin fa combo il falchetto il passaggio si che deve sempre io quella la monto eh tutti la monto forte forte questo è forte proprio costa pure mi so e poi evacuation e la foil tutto a caso ah bello per scrivere i scorti 2 chi è? eh sì oh l'eternal witness forte ah no quella è una versione diversa rara rara è comune una delle carte più odiose dello standard del 2000 oh bello 8,7,5 le creature che tu controlli hanno rapidità ah cascate e cascate doppia cascata si o ripeni giochi 2 magie d'agrimorio c'è una carta che c'è cascate 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 si si ok ah la confluenza è rossa no l'ho vista forte è come ristampe a me è uscito di bello una delle carte che ho abusato durante lo standard del 2000 che è non la queen marchesa che non sai nemmeno che cosa è perché è un monarca zanne unghia 7 mana scegli uno o c'è chiesto grimorio due carte creatura le riveli e le metti in mano o metti due carte dalla male in gioco con intrecciare le fai tutte e due e questo era il primo rampo forte che si faceva si rampava si metteva un'impressione o metti due bestie facci pure il combo perchè metti due creature e le metti direttamente in gioco un gatto mi sono venuti in brividi vi dico solo questo ragazzi il giro ah però in common si 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 vi dico solo che mi sono venuti in brividi oh chi è lei è la 3 su snubber 3 mana 3 3 quando un avversario tappa un artefatto per mana guadagni controllo di quel artefatto fino al tuo prossimo turno fortissimo 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 sto bastardo cioè si ruba gli artefatti dell'avversario che tanno mano c'è il mirro concede il controllo fino al prossimo turno il mirro concede beh ma hai tappato eh no tu poi lo stappi eh si lo stappi nel lato fortissimo fortissimo si a me è una bella scarsa a me non è malissimo cioè oddio a me è di meglio quando metti si è ovvio basta come raga? eh no ah ok ok allora vado io il mio c'è un bellissimo attore del comando fantastico vedi è qua lo dicevo io una dinamo di tranno bellissimo pure una reliquia un attore del deliquario e poi i brividi fra guarda i brividi il medaglione poi una cosa per nero ok che qua pure se c'è il verde per me è di sempre la canzone di triade che è in canto permanente i permanenti vengono a la foresta boom ulamo bello ulamo dieci vada dieci dieci quattro raggiungo sbagli e cili due permanenti indistruttibile fortissimo fortissimo se lo mettono io ecco comunque è bello che cosa? che hai trovato? eh il il fratello? no il counterspell bello eh sì papà l'ho detto lo mettono io l'ho trovato l'ho trovato ah beh c'è solo da alfa oh c'è solo di press work è un bel drago salutiamo Andrea è bello è bello come espansione comunque ora c'è pure un fatto sul prezzo un lortos e un bebo è doppia la buscina è un bebo e poi e poi vediamo come è una bestia non capisco perché è una bestia e non un rosto se no che è un rosto bello un common oh chi sei? Kemba 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 ah eh no non capivo era un attimo diverso bello Miracus Miracus Mikaisu Mikaisu non la conosco Bribery che cos'è? cinque mano cerchi il tuo grimorio no cerchi il grimorio dell'avversario per una carta creatura e la metti in gioco sotto il tuo controllo fighissimo figo ti rubi la creatura dal grimorio dell'avversario e con le cinque mano eh ho capito però te la rubi ogni altra inizio una macchista a andare a seguire Dio nera e poi una sfinge del cavo stesso per bullizzare le sfinge ma io ho ritrovato tre propaganda tre rare allora bella tre rare è il titan vedo chi è questo? un solo certo no questa la conosco se fa la stessa quanto attacca fa tre danni e poi la rara bella ok si si mi hai fatto quella il commander mettiamo qua la rara si si bella la ricerca frenetica non dove si esistere però si è bella oh arachnogenesis ah crei ragni che fa crei x ragni che fa crei x ragni 1 2 pari 2 x numero di creatura attaccanti qui è attaccato bello bella oh bellissimo che fa zami a zami dice troppo una una creatura un mago stampato che controlli peschi una carta bella che ristampa vecchissima 0 2 si e poi di una rune scherpe si ti va a prendere tutora mezzica però settemane ah si bandito una una sketch club una sketch club è una figua bellissima questa è una dei macetti figli dell'epoca quattro colori eh tre colori scusate tre colori eh no è perché qua è con i primi triondi ah no ah no eh lo so ne ho aumentato uno flawless oh oh bello l'extraplanetor lens questo gioco gratis oh bello è un cdbd ultime due bustine di questo box cdc non so dove siamo andati oh oh eh bella questa no però dicerà i controlli quando ho rallento i controlli il suo controlli non ho capito ma contro di te questa carta quando entra esidi una carta domanda si o una carta che controlli ah che giocherà in in comando quando ho una carta con il suo nome di quale esiliata crea ah no però se ti dice lina foresta te ne dà doppio forte cioè oddio eh si eh a me si gioca i mazzetti combo io ho aperto la bustina dove è uscito una carta che l'altra volta mi domandavo se era legale il standard ah la cosa la tasse delle terre ok mitica bello eh vai con l'ultimo eh non c'è qua si ah se l'avessi preso no no eh le ho rimaste due si erano molto fermati sulla tua bello bello ah che uncomo che l'ho fatto Rishkar Rishkar la Rara Foil comunque mi ha distrutto il raccogitore tutto cazzo di espansione mind agro cioè io tutte le monete ho levato nel senso no no di manco non l'hai capito eh lo so eh bene di mettere che ho da Maricci normale eh no ma non ci conviene per noi comunque le vediamo come Rara di quell'espansione eh oh no il sito che porta sempre di Rara no penso di no come no come le porta come le porta tu no ma la vecchia la vecchia si no eh io dico eh no quello dico eh o quello si fa vedere come la li fa no è meglio tenerle così secondo box ragazzi faccio un po' più veloce oh una terra doppia è un giazzale bellissima azzusa azzusa bellissimo chi sei? eh si è un dinosauro è un dito il dinosauro non so è buono carta per il monarca oh Freelice 5 mana 3 segnalini fedeltà più 2 crea un nelfo 1 1 che dà mana meno 2 di soggette fatica tesio meno 6 pesca una carta ma ogni creatura perde che controlli e lui può essere un comandante bellissimo tanta roba Freelice Freelice cattura Jinzou cattura di Jinzou ah bellissimo fai un altro turno questa carta la ristampava dal 1900 eh? è forte eh si il fatto è che ne esistono già tante così perciò più fatti perciò più fai per il blè quella è tanta roba attenzione ma ancora quello verde quale hai trovato? ehm no mi servirete non so se hai scelto una top schooling questo se tu controlli un comandante non la giochi gratis ah ok tipo la firewall bianca si no con la firewall la firewall la firewall si si fatta la s si oh medaglione rosso fra noi stiamo dicendo che ci deve fare il bianco ecco andiamo di psicologia boom boom oh servalla 3,2,3 vitica quando un'altra creatura entra in gioco eh si è bellissima è fucsia 981 no che dura è 681 non si capisce allora quando entra in gioco un'altra creatura se il controllore ah ok un'unica volta un'altra creatura entra nel gioco peschiamo una carta se ha la forza maggiore di ogni altra creatura una carta se la creatura usa la forza maggiore di altre creature ed ha x mana di una qualsiasi combinazione due x è la potenza maggiore fortissimo oh ho trovato a galta dai ho trovato ma questo è tutto verde tutto verde c'è un bacchetto bombo oh tuttore demoniaco forte uno ira di dio di notauro quello buono quello si può usare due male per fare tutto quello che sei stampato pure in fratelli si si no no è tutto di diabolico 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 no quello è quello che cerca tutto bella non sei bandito evapuazione è un asse valido non so perché ho messo questo in mezzo aspetta calda pepsi si era solo bella si era solo bella molto di questo così un altro angelic e poi un melec che bruttissimo dirlo melec ah una iri oh quando ancora era bianca quando ancora era solo bianca si da retti dipende una volta da retti è vero è grosso bello comunque tanto respiro a farci i pazzi eccolo qua no bianco tre che forza che forza fia da dolorisci era di dio bellissimo era di pino le avevo tornate quattro medaglioni hanno cambiato l'altro due o cinque è una delle tante esisteva già però mi sa che esisteva solo foil questo artwork bellissimo Rankle è il pure style paladin fortissimo hanno ristampato pure Rankle è il dinamo bello dei feriti oh porca c'è troppo c'è grosso c'è già tre medaglioni Ur ok the Ur Dragon è forte è un altro confluenza di quello c'è pure alternative Ur ovviamente vabbè sai ci piace così eh amici a me piace di più così poi 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 ah pure Mirri troviamo è una confluenza bianca eeeh e lui e lui fulforos ah due mitiche in un box e la foil non è mitica eh no è scritto la box è poco grosso un'altra mitica che bella sta commentando ah il beating un'altra carta con intrecciare vai apri tu l'ultima e poi io apro l'ultima io vai col medaglione verde fra è il tuo niente ehm bello non lo so non l'ho vista no niente una yennet fortissima decreto of pain decreto del loro fortissimo oh mitica la zacchetta cromatic per una volta ci stavo pensato ci stavo credendo e niente ah questo box comunque penso che è molto più grosso dell'altro solo per i press walker che sono usciti eh sì l'altro sinceramente è super vuoto vabbè si può essere che non conoscevo le carte comunque è uscito Ulamoc alternative non lo so quanto è però sono carte sempre richieste oh bellissimo comunque come espansione abbiamo già capito com'è il prezzo alto tante mitiche tante rare la fu il garantita che non è mai stato comunque il fatto del draft secondo me due buste servono basta secondo me due buste per il draft poi devo andare da chiedere oh grazie mille a tutti per la visione ci vediamo al prossimo prossimo video bella wagyu